cari amiche cari amici vi leggerò adesso un lungo articolo tratto da live site news il sito è in inglese quindi ho dovuto utilizzare il traduttore dunque alcune parti sono venute tradotte un po in maniera approssimativa però nell'insieme si capisce tutto benissimo giovedì 21 maggio 2020 in questi tempi di coronavirus mi è diventato chiaro che stiamo vivendo negli ultimi tempi almeno per quanto riguarda il castigo previsto da nostra signora di fatima nel 1917 oggi il più grande la previazione di tutti i tempi è avvenuta e per la prima volta nella storia la maggior parte dell'umanità cattolica è stata privata del sacro sacrificio della messa sant'alfonso liguori nei suoi discorsi sulla messa e sull'ufficio scrisse una singola messa rende più onore a dio di quanto possa mai essergli dato da tutte le preghiere e le austerità dei santi tutte le fatiche e le fatiche degli apostoli tutti i tormenti dei martiri e le adorazioni dei serafini e della madre di dio e mentre questa privazione continua viene in mente gli avvertimenti apocalittici di cristo stesso che leggiamo nel vangelo di matteo quando dunque vedrai l'abominio della desolazione di cui parlava il profeta daniele in piedi nel luogo santo quelli che sono in giudea dovranno fuggire sulle montagne il versetto di daniele a cui fa riferimento nostro signore è questo e dal momento in cui il sacrificio continuo sarà tolto e sarà istituito l'abominio della desolazione ci saranno 1290 giorni in una conversazione con alcuni miei amici più cari ho detto che la rimozione della messa da quasi tutti i fedeli in tutta la terra sembra un addempimento di quella profezia comunque anche nel peggiore dei momenti a venire se tutte le messe fossero bandite appena come pena la morte ci saranno sempre sacerdoti fedeli che offriranno segretamente il santo sacrificio felici di rischiare la vita per farlo questa nozione stata rafforzata dall'interpretazione di roberto bellarmino nella sua famosa opera intorno al pontefice romano che interpreta questo passaggio del libro di daniele dicendo che tutte le cerimonie pubbliche sacrifici della religione cesseranno mentre credo che i tempi siano apocalittici non è certo la fine del mondo perché la nostra signora di fatima ci ha detto che saremo i primi a sperimentare il trionfo del cuore immacolato e profetizzato periodo di pace che sarà data al mondo ricordo le nostre le parole della nostra nostra signora di fatima quando vedi una notte illuminata da una luce sconosciuta sappi che questo è il grande segno dato che dio sta per punire il mondo per i suoi crimini per mezzo di guerre carestie e persecuzioni della chiesa e del santo padre il santo padre avrà molto da soffrire varie nazioni saranno annientate alla fine il mio cuore immacolato trionferà il santo padre mi consacrerà alla russia e lei si convertirà un periodo di pace sarà concesso al mondo in questo senso credo che molti prelati considerino questi tempi come i tempi della fine il cardinal caffarra nel rom light forum del mille del 2017 scusate ha affermato che la battaglia decisiva tra nostro signore regno di satana che era stata predetta a fatima a causa della distruzione del matrimonio della famiglia è ora in corso e infuriata da quando la chiesa è stata confusa proprio sul tema del matrimonio della famiglia con la moris letizie e due sinodi che l'hanno preceduta quando era al nostro rom life forum nel 2019 appare ho parlato con il cardinale olandese e il cic del suo articolo in cui ha scritto osservando che i vescovi e soprattutto il successore di pietro non riescono a mantenere e trasmettere fedelmente il deposito di fede contenuto nella sacra tradizione non posso fare a meno di pensare all'articolo 675 del catechismo della chiesa cattolica dove scritto l'ultima prova della chiesa prima della seconda venuta di cristo la chiesa deve passare attraverso una prova finale che scuoterà la fede in molti credenti la persecuzione che accompagna il suo pellegrinaggio sulla terra svelerà il mistero dell'iniquità sotto forma di un inganno religioso che offre agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi al prezzo dell'apostasia della verità egic ha spiegato il suo riferimento in questo modo ho citato il numero 675 del catechismo della chiesa cattolica perché ci sono cardinali che invocano benedizione delle relazioni omosessuali e ho indicato questo paragrafo come un avvertimento poco prima dell'apocalisse le voci sorgeranno all'interno della chiesa stessa e tra la più alta autorità che esprimeranno opinioni divergenti in relazione alla dottrina cattolica l'ho fatto come un avvertimento stiamo attenti a non trovarci in questa situazione poi egic mi disse che aveva notato che non era l'unico cardinale a fare riferimento a questa parte del catechismo miller cardinale ex prefetto della congregazione della dottrina della fede ha pubblicato il suo manifesto della fede nel febbraio dello scorso anno e sua ominenza disse tacere su queste altre verità della fede insegnare alle persone di conseguenza è il più grande inganno contro il quale il catechismo mette in guardia rappresenta l'ultimo processo della chiesa e conduce l'uomo a un'illusione religiosa il prezzo della loro apostasia citando il numero 675 del catechismo è la frode dell'anticristo ha detto il cardinal mure nulla raggiunto ingannerà coloro che si sono persi con ogni mezzo di ingiustizia poiché si sono chiusi all'amore della verità con cui dovrebbero essere salvati prima del sinodo dell'amazzone il cardinale brand muller che ha parlato a questo forum della vita di roma lo scorso anno ha dichiarato sorge la spaventosa domanda se i protagonisti di questo sinodo non si preoccupino più del tentativo di sostituire segretamente la religione come risposta dell'uomo al richiamo del suo creatore da parte di una religione panteistica e naturale dell'uomo vale a dire da una nuova variante del modernismo a partire dall'inizio del ventesimo secolo è difficile non pensare ai testi escatologici del nuovo testamento disse quando scoppiò lo scandalo paciamama durante il sinodo il cardinale brand muller che parlerò che parlò a questo forum nel 2019 fece riferimento diretto agli avvertimenti apocalittici di cristo definendo gli idoli paciamama in vaticano abominio della desolazione istituito nel luogo santo il cardinal burke disse nel momento presente c'è confusione errore sugli insegnamenti fondamentali della chiesa anche rispetto al matrimonio e alla famiglia ho quindi descritto il dibattito nella chiesa sulla comunione il divorzio e nuovo matrimonio con queste parole oggi c'è confusione sul fatto che ci siano atti intrinsecamente malvaggi questo ovviamente il fondamento della legge morale quando questa fondazione inizia a essere messa in discussione all'interno della chiesa l'intero ordine della vita umana e della chiesa stessa vengono messi in pericolo forse siamo arrivati agli ultimi tempi un altro segno di cui parla nostro signore in matteo 24 è la confusione anche degli eletti cioè dei fedeli dei credenti mai prima nella storia della chiesa come attesta il nostro storico della chiesa il professor roberto de mattei con queste parole ma nella storia c'è stata tanta confusione tra i fedeli anche durante l'eresia ariana quando sembrava che tutto il mondo fosse ariano come molti storici hanno detto almeno era solo un'eresia oggi le eresie sono legioni e gli stessi fedeli sono confusi e divisi come mai prima di ora in quei tempi la confusione è più grave in quanto proviene dallo stesso scusate in questi tempi la confusione è più grave in quanto proviene dallo stesso papa che dovrebbe essere il principale guardiano della verità della fede papa francesco ha distorto l'insegnamento della chiesa sulla contraccezione l'omosessualità il transgenderismo la promozione personale del papa del clero attivista lgbt come james martin il cardinal gotfield daniels hanno suscitato scandalo ma oltre a ciò ci sono cambiamenti semi formali che vanno contro l'insegnamento della chiesa come la comunione per i cattolici divorziati risposati infine è come il cambiamento di catechismo sulla pena di morte che contraviene direttamente all'insegnamento sempre sostenuto dalla chiesa come spiegò esplicitamente papa innocenzo terzo infine la cosa più preoccupante per molti ascoltatori è l'alterazione delle priorità della chiesa in particolare sull'aborto nell'esultazione di papa francesco gaudete ed esultate insegna il contrario di ciò che papa giovanni paolo secondo e benedetto sedicesimo insegnarono riguardo alla preminenza dell'aborto come questione di preoccupazione morale della chiesa c'è anche confusione sull'ordinazione femminile e celibato il riconoscimento della banderia pandemia di coronavirus è un castigo anche dal punto di vista cattolico perché le scritture incluso nuovo testamento parlano di quelle che vengono chiamate in carastrofi naturali come conseguenza del dispiacere di dio che il pontefice nega il cardinal burke ha tirato l'attenzione sull'idolatria nei suoi commetti del coronavirus come castigo e aggiunto assistiamo anche all'interno della chiesa un paganesimo che adora la natura e la terra ci sono quelli all'interno della chiesa che si riferiscono alla terra come nostra madre come se venissimo dalla terra e la terra è la nostra salvezza ma questo non è vero noi veniamo dalla mano di dio creatore del cielo e della terra vale la pena notare che poco prima che questo virus scoppiasse il papa permise questa idolatria della pace mamma nei giardini vaticani e ebbe luogo includeva anche la prostrazione davanti alla statua la statua è stata successivamente portata nella basilica di san pietro dove il papa e diversi cardinali hanno recitato preghiere quest'atto è stato condannato da molti cardinali sacerdoti e vescovi e lasci tutto il mondo questa crisi di coronavirus è un castigo permesso da dio per tornare alla verità papa francesco ha detto numerose volte che abbiamo il coronavirus non per causa del dispiacere di dio ma per cause naturali e si arrabbia dio con noi per non proteggere l'ambiente papa francesco afferma anche che il fatto che la natura si scatena è perché non abbiamo affrontato seriamente il tema dell'inquinamento ma anche prima del coronavirus abbiamo subito scusate qui il traduttore vado avanti nel suo libro the priest john hughes scrive il segno più evidente della rabbia di dio il castigo più terribile si manifestano quando permette al popolo di cadere nelle mani di preti che praticano la crudeltà dei lupi della pace piuttosto che la carità e la affetto di pastori dovuti quando dio permette queste cose è una prova che è completamente arrabbiato con il popolo e sta visitando la sua più terribile rabbia su di loro riversando sarà riversando la sua rabbia più terribile su loro perché a causa dei nostri peccati soprattutto aborto lussuria sodomia dio è arrabbiato con noi quindi quando noi cristiani siamo chiamati nel suo nome ci pentiamo ci pentiamo dio ci può perdonare per guarire la terra l'unica soluzione al caos in cui il mondo e la chiesa si trovano oggi all'intervento divino papa benedetto sedicesimo sperava che questo intervento potesse arrivare a breve in un'omelia del 13 maggio 2010 disse possano i sette anni che ci separano dal centenario delle apparizioni affrettare il compimento della profezia del trionfo del cuore immacolato di maria alla gloria della santissima trinità e saremmo in errore a pensare che la missione profetica di fatima sia completa oggi il miracolo di fatima del 13 ottobre 1917 sulla movimenti del sole fu assistito da 70 mila persone con copertura in tutte le carte secolari dell'epoca è stato il miracolo pubblico più spettacolare di tutti i tempi la madonna avvertito in particolare che se la russia non fosse ci fosse consacrata ci sarebbero state guerre e persecuzioni in conclusione vorrei citare una dichiarazione troppo poco nota della ciovesco carlo maria viganò che ha consegnato poco prima di natale è stata una delle chiamate alle armi più entusiasmanti che abbia mai sentito dopo aver dichiarato senza mezzi termini la situazione catastrofica che la chiesa deve affrontare oggi ha concluso con un incoraggiamento dicendo ora tocca a noi senza equivoci senza lasciarci cacciare da questa chiesa di cui siamo figli legittimi e in cui abbiamo il sacro diritto di sentirci a casa senza l'odiosa orda di nemici di cristo che ci fa sentire marginati scismatici e scomunicati ora tocca a noi il trionfo del cuore immacolato di maria corredentrice mediatrice di tutte le grazie passa attraverso i suoi piccoli che sono certamente fragili e peccatori ma sono assolutamente contrari ai membri arruolati nell'esercito del nemico i piccoli consacrati senza alcun limite all'immacolata per essere il suo tallone la parte più umilata e disprezzata la più odiata dall'inferno ma che insieme a lei schiaccerà la testa al mostro infernale la chiesa è avvolta nell'oscurità del modernismo ma la vittoria appartiene al nostro signore e alla sua sposa desideriamo continuare a professare la fede perenne nella chiesa di fronte al male ruggente che l'assedia desideriamo vigliare con lei e con gesù in questo nuovo giazzemani degli ultimi tempi pregare fare penitenza e riparazione per le numerose offese a loro causate bene cari amici e caramiche ripeto alcuni punti erano un po ostici così a causa della della traduzione del traduttore un pollice su per il mio lavoro sempre inchiodati al decimo d'oro un caro abbraccio a tutti marco cosmo grazie a tutti